Sono tanti i turisti che si incontrano per le strade di Lecco. Finalmente si è ricominciato a viaggiare come prima della pandemia, tant'è che gli accessi all'Infopoint di Lecco nel mese di luglio non erano mai stati così alti, neanche nel 2017, anno da record per il turismo. Nei mesi estivi si sono registrati 1.500 accessi in media, ma anche nei mesi di aprile e maggio le percentuali sono state decisamente positive. Non si arresta neanche il turismo di prossimità, aumentato per forza di cose negli anni del Covid, ma tuttora i lombardi vanno alla scoperta delle bellezze locali anche solo per una giornata. Ma da dove vengono i turisti stranieri e cosa fanno a Lecco? Gli stranieri vengono da Francia, al primo gradino del podio, Est Europa, Gran Bretagna, Germania. Arrivano gli americani, ovviamente non nei mesi invernali ma nei mesi di alta stagione. Cosa chiedono? Chiedono che cosa è possibile fare a Lecco. Quindi da chi vuole scoprire il lago in battello o praticando sport, come può essere kayak, vela, canoa, piuttosto che chi vuole la montagna. È una montagna accessibile a tutti, alle famiglie con bambini, a chi vuole salire in funivia, piuttosto che chi invece vuole fare sport, chi anche invece vuole scoprire le bellezze dei musei, le bellezze culturali della città, senza dimenticare anche i turisti che ci chiedono di poter gustare la cucina locale. Lecco è una città più di passaggio, ci si ferma anche, si fa tappa qui e poi ci si sposta. No, a dir la verità abbiamo ricevuto tante richieste da persone che arrivano e che rimangono tanto tempo. Soprattutto gli australiani tendono ad arrivare e stare magari due, tre settimane. Da dove venite? Veniamo dalla Polonia. È la prima volta a Lecco. Davvero una bella città. Per ora abbiamo passeggiato per il centro e nei giorni scorsi siamo stati a Bellagio, Varenna e Bellano. Preferite il lago o la montagna? Il lago. No, entrambi. Veniamo dai Paesi Bassi. Penso sia la dodicesima volta in Italia e la seconda a Lecco. Beh, quindi vi piace Lecco. Sì, abbiamo trascorso una vacanza qui tanti anni fa e adesso eravamo curiosi di tornare a visitarla. Lago-montagna? Oh, questa è una domanda davvero difficile. Entrambi, non posso scegliere. I cannot choose.